oggi vi presenteremo questo nuovo reparto è dedicato ai SUV come potete vedere alla vostra sinistra vi trovate queste due bellissime Range Rover Evoque e queste due X3 partiamo con un Subaru XV bellissime RAV4 e CX-5 abbiamo questa serie di Tiguan due scure e una Nikiara una Tivoli due scuola Yeti una 4x4 e una due rotomotrici abbiamo questa bellissima Q5 S-Line abbiamo un'altra Q5 questo è il reparto Volvo XC90, due XC60 una UDQ7 una bellissima Volkswagen Amarok mettiamo ancora la XC60 una Ford Kuga una Nissan Sky ecco la Jeep Grand Cherokee due Tuareg e due Nissan Sky vi aspettiamo per dare un'occhiata a tutte le nostre vettura oppure visitate il nostro sito web www.lorenzihub.it